Il treno regionale 21 5 9 4, di Trenitalia, proveniente da Locri, è diretto alla mezzia terme centrale, delle ore 7.04, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Montasterace Stilo, Guardavalle, Badolato, Soverato, Montepaone Montauro, Squillace, Catanzaro Lido, Catanzaro, la mezzia terme Nicastro, la mezzia terme San Biase. Il treno regionale 21 6 7 1, di Trenitalia, proveniente da Catanzaro Lido, è diretto a Locri, delle ore 7.21, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 55 28, di Trenitalia, proveniente da Reggio Calabria Centrale, è diretto a Catanzaro Lido, delle ore 7.47, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Montasterace Stilo, Guardavalle, Badolato, Soverato. Il treno regionale 21 6 7 5, di Trenitalia, proveniente da Catanzaro Lido, è diretto a Locri, delle ore 11.06, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno regionale 21 6 7 0, di Trenitalia, proveniente da Locri, è diretto a Catanzaro Lido, delle ore 12.34, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Riace, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea dello Ionio. Il treno regionale 21 9 9 9, di Trenitalia, proveniente dalla Mezzia Terme Centrale, è diretto a Locri, delle ore 16, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 21 6 7 4, di Trenitalia, proveniente da Locri, è diretto a Catanzaro Lido, delle ore 17.31, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni eccetto, Riace, Santa Caterina dello Ionio, Sant'Andrea dello Ionio. Il treno regionale 21 9 5 3, di Trenitalia, proveniente dalla Mezzia Terme Centrale, è diretto all'Ocri, delle ore 17.53, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 21 6 7 9, di Trenitalia, proveniente da Catanzaro Lido, è diretto a Roccella Ionica, delle ore 19.51, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla.